Dopo ristorazione e servizio sanitario arriva la terza vita per i locali del Rossini Center che furono prima i riconoscibili spazi di ristorazione self-service del Ristò, poi furono adibiti a centro vaccinale di riferimento per la città di Pesaro in epoca di pandemia ed ora una svolta commerciale con l'arrivo a Pesaro dell'azienda d'abbigliamento francese Chiavi. Siamo molto contenti di essere venuti qui a Pesaro, effettivamente siamo già presenti su tutta la linea dell'Adriatico, quindi arriviamo a Pescara, Civitanova, Ravenna, quindi ci mancava proprio Pesaro e abbiamo deciso di aprirlo. Ci sono delle bellissime famiglie, una bellissima realtà, la città, c'è tanta gente e siamo veramente contenti. Quello di Pesaro sarà il 37esimo punto vendita Chiavi in Italia. Nasce tantissimi anni fa in Francia, a Lille, nel nord della Francia, dal fondatore Patrick Muglier che fa parte del gruppo Muglier, ovvero Decathlon, Oshan, Leroy Merlin. Nasce con l'obiettivo di rendere la moda accessibile a tutte le famiglie, quindi una moda a prezzo basso dove tutti possono trovare il capo che vogliono. Questo concetto si è sviluppato nel tempo e adesso effettivamente quello che siamo è questo e abbiamo continuato a farlo per tanti anni. Chiavi è presente in Italia dal 1996, il primo negozio l'abbiamo aperto a Milano, Corsico, Chiavi è una zona francese e vuol dire Chiavi, che in italiano sarebbe Chi Veste, quindi proprio abilamento per tutta la famiglia. Noi vendiamo di tutto, quindi per tutta la famiglia vendiamo i prodotti per l'uomo, la donna, bambini, neonati e addirittura anche dei mercati come Garden Italia, tali comodi, prima manna, accessori, quindi vestiamo tutta la famiglia. Vendiamo dai zero anni fino all'adulto, uomo, donna, bambino. Siamo una marca conosciuta e riconosciuta per il bebè, per il reparto Kids e in questo periodo un po' di difficoltà, di inflazione, diciamo che la nostra missione è un po' quella di stare al fianco delle famiglie con prezzi bassi, una qualità comunque di tutto rispetto che possa far sì che tutti abbiano il piacere di vestirsi. Ecco.